Ti chiami davvero, Gertrude? Ti pare che inventerei un nome del genere? E come ti fai chiamare? Gerti? Ho la faccia da Gerti. Ma non lo so. Mi chiamano Pony. È il soprannome che mi ha dato mio padre. Non chiedermi perché. Non lo farò. Che ne dici di un bacio? Per dimostrare la mia soddisfazione. Sì. Guarda tu! Mi seguo! Tutto qui? Un bacio si dà in due. No? Allora ci vediamo. Alla Cigreiao. Allora ci vediamo. Grazie.